Ci troviamo all'ingresso del liceo scientifico Galilei Campailla di Modica, dove tra poco entreranno prima le prime classi a seguire anche le seconde, le terze e così via, perché oggi è il primo giorno di scuola. Un primo giorno dove si parte senza mascherina, senza distanziamento e quindi tra tutti i sorrisi dei ragazzi. Sei emozionato? Sì, sì, sta tanto emozionato, perché compagni nuovi, scuola nuova, professori nuovi, materie nuove, c'è emozione, giusto. Sei qua perché hai già le idee chiare? Più che altro no, idee chiare per il mio futuro no, più per aprirmi, più sbocchi diciamo e quindi avere più possibilità avanti nel caso in cui cambio idea oppure scelgo strade diverse. Ragazzi, anche per voi primo giorno di scuola? Sì, anche per noi siamo molto emozionati, torniamo senza mascherine, senza distanziamento e speriamo che si ritornerà alla normalità. Questa cosa ti rende più tranquillo, il fatto di non dover indossare la mascherina? Questa cosa mi rende, sì, un po' più tranquillo, però bisogna sempre stare attenti un po' alle regole. Per te è il primo giorno di liceo? Hai già le idee chiare per il tuo futuro? Sei qua per questo? Le idee chiare così così, però bene o male ho un'idea. È il primo giorno di liceo e sono un po' con l'ansia perché non conosco quasi nessuno, però speriamo bene. Sono un po' più tranquilla, visto che non ci sono le mascherine, pian piano credo che mi abituerò. Io ho già qualche idea chiara per il futuro, però credo che comunque in cinque anni può sempre cambiare tutto. Sì, sono emozionato perché è una nuova esperienza. Hai delle aspettative in particolare? No, solo che si studierà di più, questo è poco, ma sicuro. Altre aspettative particolari, magari nuove amicizie, ma no, non ambisco a cose troppo elevate. Quest'anno si torna a scuola senza mascherina, questa cosa ti tranquillizza il fatto? È un sollievo, perché finalmente possiamo respirare, non si respirava con le mascherine. Per le novità del nuovo anno scolastico abbiamo sentito il dirigente scolastico Sergio Carrubba. Finalmente i ragazzi sono senza mascherine e c'è, diciamo così, un ritorno a una quasi normalità. È chiaro che ci sono sempre le attenzioni massime anti-Covid e quindi la erezione delle classi è importantissima. Al momento non abbiamo problemi, visto il caldo, ma anche d'inverno abbiamo previsto tutta una serie di dispositivi che possono un po' cambiare l'aria per evitare eventuali infezioni. Per il resto, che dire, è un anno importantissimo, perché appunto un anno di ripresa, un anno che prelude intanto a tanti cambiamenti che ci saranno nella scuola grazie al PNRR nei prossimi anni. Iniziamo già da quest'anno a lavorare sui fondi che il Ministero mette a disposizione. Quindi prepariamo una scuola nuova in modo tale che i nostri giovani possano essere veramente al passo con i tempi. E quali dunque le novità per quest'anno? Beh, intanto le novità per quest'anno, diciamo, nell'immediato non ce ne sono, stiamo aspettando le linee guida proprio per sapere che cosa dobbiamo acquistare, come cambiare la didattica. Quindi, diciamo, è un lavoro in fieri che avverrà proprio iniziando da quest'anno e, diciamo, il punto d'arrivo sarà il 2025. Auguro quindi ai docenti, ai nostri ragazzi, alle famiglie un anno scolastico sereno e fattivo per la preparazione.